Hanno pagato veramente caro la troppa fuga dimostrata in fase difensiva, poi bravissimi gli avversari nel sfruttare l'occasione. Bel gol, certamente, ma ci sono anche le responsabilità della ripesa. Questa non è una punizione, è una pennellata da grandissimo artista, è riuscito a battere il portiere con una punizione d'antologia. E di fronte a una pratezza così, bisogna soltanto applaudire. Siamo 3-1 e magari non finisce.